La consegna vice a Kvarazkelia del premio EA Sports FC Player of the Month. La tiene David Neres, dietro ancora su Gilmour. L'apertura, trovare Di Lorenzo, la mette in mezzo, un gonghe, la risposta di Falcone e poi Olivera, la messa in porta Di Lorenzo, la rete dell'1-0 Napoli. Fuori gioco di Di Lorenzo, gol cancellato, si rimane sullo 0-0. Il corner di Raffia, palla dentro, il colpo di testa di Baschirotto, rispinge Meretta e poi salva Buongiorno. Ngonge, rinuncia al cross, si accentra, prova il tiro, Falcone vola e mette fuori. Altro cross, lungo a cercare, Buongiorno, la rimette in mezzo, la mette altissima poi Romelu Lukaku. Palla lunga, Buongiorno, riesce a toccarla, Politano, lo scontro con Banda. Banda non trova più il pallone, trova la sagoma di Politano in area. Check completato, rimessa laterale. Batte Politano. Il colpo di testa di Vectomini, si salva Falcone, Di Lorenzo la spinge in porta e stavolta è tutto buono. Il gol del capitano, come nel primo tempo, stavolta però, rete valida e Napoli davanti. Buongiorno. Pescato Lukaku, il controllo in area, palla dietro per Raspadori, che mette alto. Finisce qui, il Napoli si conferma da solo in testa, anche contro il Lecce. Basta un gol, quello di Di Lorenzo nella ripresa.